Sì, apre la discussione. Discussioni a tratti anche aspre fino alle 4 del mattino, ma alla fine a Castel San Giorgio il Consiglio Comunale ha approvato i due importanti punti all'ordine del giorno. Il piano triennale delle opere pubbliche, ma soprattutto il bilancio, il cui via libera sembrava essere stato messo in discussione negli ultimi mesi, dalle fibrillazioni interne alla maggioranza del sindaco Longanella, che invece ha tenuto ed è rimasta compatta. È un bilancio che sicuramente tiene riflette lo stato attuale del nostro paese, della nostra nazione, è un bilancio di difficoltà. Se solo pensiamo che dal 2008 al 2013 i trasferimenti statali o i trasferimenti regionali da altri enti sono scesi da 3 milioni di euro a 1 milione 800 mila euro, si ha il senso di che cosa può essere oggi un bilancio per un comune. Purtroppo dobbiamo fare i conti con questi numeri che incominciano ad essere veramente un po' stretti. Le opere non iniziano, le opere non vengono continuate, quindi è un piano annuale che mi sa del falso. E su questo io invito anche a un approfondimento, se non a capire anche attraverso una commissione di indagine, perché si va a approvare un piano annuale che non ha il segno della realtà. Oggi ci sono i mezzi di comunicazione tecnologici che possono creare la possibilità di verificare da parte della cittadinanza quello che si fa davvero. Quando si dice falso è un problema, bisogna purtroppo stare attenti e rispondere adeguatamente. Si parla di precedenti amministrazioni che tenevano tutto in regola, facevano le opere pubbliche con preliminari, piano, tutto regolare. Noi abbiamo trovato i fogliotti di carta penna e così. Ma non è questo il problema, è che noi vogliamo lavorare. Il nostro è un piano che purtroppo riporta anche delle situazioni proposte precedenti, perché c'è sempre una continuità e si spera che magari qualche finanziamento arrivi. Ma noi lavoriamo sulle cose certe, sui nostri progetti, lavoriamo su quelle che sono le possibilità delle nostre casse, quelle che sono i finanziamenti che sono possibili e facciamo le richieste quando vengono in banto oppure sono già stati consolidati. Penso che per quanto riguarda le opere pubbliche non accettiamo lezioni da nessuno. Nel corso della seduta di consiglio di ieri, anche un dato prettamente politico, lascia il PDL Enzo Capuano, che si è proclamato indipendente. Io sono segretario del PDL qui a Castel San Giorgio e mi trovo a rivestire questo ruolo perché ci ho sempre creduto in questo partito. Oggi c'è una scissione, diciamolo chiaro, si è visto, tra Berlusconi e Alfano, voglio dire, tra marito e moglie. Certamente noi stiamo all'esterno e non possiamo difarla né per il marito né per la moglie quando stanno insieme. Quindi ci occorre un attimo di riflessione per capire bene dove vogliono portarci, dove si vuole arrivare e con quale situazione politica poi vogliamo discutere. Quindi in questo contesto io penso di fare una pausa di riflessione, un'indipendenza in consiglio comunale qui a Castel San Giorgio per riflettere meglio su quale saranno poi le mie posizioni da scegliere e da assumere anche qui a livello locale.